Uno dei volti nuovi di questo nuovo corso dell'Adria è il portiere Nicola Modesti che conosce bene queste categorie e viene da un'esperienza importante comunque alla Rosetana. Come è arrivata questa chiamata? Allora, la chiamata è arrivata direttamente dal mister, dal presidente e quindi sono orgoglioso alla fine di aver ricevuto questa chiamata perché a parte il rapporto, soprattutto anche per il rapporto umano ma anche sotto il profilo sportivo, avere questo tipo di attestato di stima mi ha inorgoglito e quindi diciamo che ho avuto offerte di qua e di là, però poi alla fine ho preferito scegliere di cuore ma anche di... Speriamo anche sportivamente per un progetto sicuramente che già dai primi giorni è molto valido, molto interessante e molto solido secondo me. Progetto che prevede tanti giovani ma anche un mix di esperienza in una piazza comunque storica. Sicuramente è una fusione di due società in una città che poi il calcio l'ha visto, il calcio l'ha fatto e con alla fine il mister che è una bandiera di questa società, come ho detto prima inorgoglisce perché significa che c'è un bel movimento intorno a questa società, intorno a questa piazza, intorno alla nostra squadra che come ho detto bene tra giovani di prospettiva e esperti, meno giovani diciamo così, si spera di sicurezza in un certo senso possiamo fare bene, questo è sicuro.